Nella cittadina dello sport è previsto un intervento importante perché di fatto è la realizzazione e la riqualificazione del campo di calcio numero uno. Il campo di calcio che purtroppo all'epoca non è stato eseguito nel modo migliore e presenta numerose problematiche. Ma soprattutto all'interno di questo impianto, il campo di calcio numero uno, essendoci 2.700 metri di area non utilizzabile, noi realizzeremo altri impianti sportivi tipo il basket, il volley, il tennis da tavola e il beach volley. E anche un'area fitness, tutti impianti però che possono essere usufruiti anche dai diversamente abili. Qui noi smantelliamo totalmente le tribune, realizziamo tribune nuove rialzate 3 metri dal livello di piano, oggi invece erano a raso e ciò comportava che all'interno degli spogliatoi posti sotto le tribune si allagavano. Oggi invece li realizziamo a 3 metri di altezza permettendo così anche allo spettatore di visualizzare bene la partita. Naturalmente ci saranno delle rampe di accesso per i disabili perché li portiamo a 3 metri di altezza, saranno realizzati sotto le tribune uffici, infermeria, magazzini e inoltre saranno rifatti completamente gli spogliatoi. Le tribune saranno coperte in strutture in legno lamellare e con materiale di zinco sul tetto, sia la tribuna locale saranno 375 posti con seggiolini di plastica, che è quello ospiti di 145 posti, alla parte opposta con materiale anche qui zincato, con realizzazione di 4 bagni sia per disabili sia per i normodotati. Sì, un altro fiore nell'occhiello è la nostra bellissima già cittadella dello sport, una cittadella che con questo nuovo intervento crescerà ancora di più, crescerà e renderà veramente un gioiello quello che già oggi è importante per noi. Questo anche a discapito è a chiusura di tante critiche perché noi ci abbiamo sempre tenuto a completare quello che già è una bella realtà, ripeto, e con questa bellissima opera che si andrà a realizzare saremo veramente tra i primi oggi in Abruzzo, per non dire in Italia, come cittadello, come capienza, come attività sportiva e come accoglienza. E siamo orgogliosi di ospitare chiunque abbia voglia di venire qui a giocare e a comportarsi nel migliore dei modi.